Gartner ha formulato le previsioni di spesa globali in ambito IT per il 2018 che evidenziano prima di tutto il dato di un incremento per 4,5 punti percentuali rispetto al 2017. Una buona notizia che si aggiunge alla proiezione positiva anche sui prossimi anni. Non mancano comunque i fattori politico-finanziari che potrebbero portare a una revisione delle stime. Tra questi le fluttuazioni valutarie. Una possibile recessione globale e il potenziale impatto della Brexit. Come a dire, il comparto in esse è in salute. Ma bisogner vedere cosa accade fuori. Tanto in salute il comparto che nonostante le poche certezze esogene i business investiranno in IT. Nei prossimi anni PERT prevedono la crescita dei fatturati. Ma lo faranno con modelli di riferimento differenti. I driver rimarranno blockchain, IoT. Ma le voci legate ai big data vedranno uno spostamento verso quelle relative ai passaggi successivi che abilitano il valore dei data lake quindi con investimenti su machine learning, intelligenza artificiale e algoritmi. Quasi a doppia cifra la crescita delle voci di spesa per il software sia nel 2018. Sia nel 2019 per un totale di 421 miliardi di dollari. La modalità di erogazione SAR sempre di P quella SA se il software come servizio si estenderò oltre. L'ambito office sulle soluzioni di gestione finanziaria. Risorse umane. E analytics. In tabella è evidente lo spostamento. Si arresta praticamente la crescita degli investimenti in ambito data center. Bene nel complesso i Davis dopo un bienno non proprio esaltante. Cresce la spesa per i servizi IT e legati alle telecomunicazioni. Non bisogna dimenticare che il 2018 e definitivamente il 2019 saranno anni chiave per l'arrivo del 5G. Pensiamo che il passaggio si rifletterà anche nella proposta di nuovi strumenti per il lavoro in mobili. Ma tanto della crescita legato all'aumento del valore come criterio di scelta in fase di acquisto. Mentre abbiamo oggi segnalato come nel complesso la vendita dei PC tradizionali resta la crescita. Piatta. 2017 spending 2017 growth. Per cento. 2018 spending. 2018 growth. Per cento. 2019 spending. 2019 growth. Per cento. Data center systems 1784. 41.790. 6.179-0. Due enterprise software 3.558. 93.829. 54.200. 4.118. 4 devices 6.675. 77.045. 67.100. 9 IT services 9.334. 39.855. 51.304. 6 communications services 1.3.931. 31.4.272. 41.4.431. 41.431. 1 ovvero l'IT3. 5.273. 83.6.834. 53.7.842. 7 fonte. Gartner. Gennaio 2018. Previsioni di spesa IT globale in miliardi di dollari secondo Gartner 2.9.000 miliardi saranno investiti complessivamente nell'area e da qui al 2021. Cui saranno riconducibili almeno in parte oltre 6 miliardi di ore di produttività risparmiate. Nel breve termine permettere alla propria azienda di esprimere il proprio potenziale nell'ambito della digital transformation richiedere necessariamente un incremento di spesa. Maggiore proprio se si vuole iniziare a risparmiare sui costi nel breve termine. Ma in dubbio che la capacità di sfruttare le tecnologie legate all'intelligenza artificiale. Proietteranno queste Realt un passo avanti ripagando gli investimenti.